Porca miseria ragazzi che giornatina, oggi è venerdì, dovrebbe essere l'inizio del weekend e in realtà in casa Juve di cosa ne succedono e come. Al di là degli sviluppi di mercato di cui andremo a parlare, in particolare di Chiesa e poi di Copa Mainers, parliamo della giornata di oggi che è una giornata importantissima per la Juventus. Prima di iniziare spingete questo algoritmo in che modo? Con un bel like, che è la prima cosa. A fine video lasciate il vostro commento e mi raccomando ragazzi se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ovviamente la cosa che preferisco io personalmente è che a cui do più valore il commento, più di tutto il resto. L'iscrizione è una conseguenza, aiuta a spingere il video e a far sì che tutti i miei video quotidiani vengano spinti, tutto qua, e consigliati in altri video e in altre situazioni. Allora, parliamo un po' della giornata di oggi. Oggi ragazzi, fra un'oretta circa, arriverà Di Gregorio a sostenere le visite mediche, ma non ci sarà solo lui, ci sarà anche Alisha Lehmann, la compagna, o ragazza, o fidanzata, chiamatela come vi pare, di Douglas Luiz. Quindi, questo è il programma già al J Medical. Di Gregorio, ho visto che sui social si è dato anche da fare, ha defollowato Inter, pagine interiste, sappiamo tutti che interista. Però, a differenza dei fiorentini, non stiamo qui a fare le battaglie del cazzo, nonostante sia la nostra cerrima rivale e con un motivo chiaro. Non è come quelle rivalità unilaterali che provano solo loro, è come dire, io sono fidanzato di Belen, solo che lei non lo sa. È la stessa identica cosa, la rivalità che prova la Fiorentina e il Bologna contro la Juventus. Per cui, una boiata tremenda, però è tutto ciò che deriva il problema, al di là della rivalità. Anche noi siamo rivali dell'Inter e con motivazione, e nonostante ciò stiamo prendendo un portiere che difede, acclarata interista, che verrà a fare da noi il titolare, farà il professionista, perché nel calcio ormai funziona così e dobbiamo metterci l'anima in pace. Poi c'è gente che mette questi principi ancora avanti, ma io credo che davanti a delle offerte ricche anche quei principi cadono, fidatevi, perché a quel punto entra in gioco una sorta di egoismo lecito che porta i giocatori, gli allenatori, a voltare le spalle alla fede e a concentrarsi sul proprio lavoro. Ed è quello che farà Di Lorenzo. Quindi Di Lorenzo, scusate Di Lorenzo, Di Gregorio, tacci su a Di Lorenzo, per fortuna che rimane a Napoli. Di Gregorio. Alice Aleman invece verrà, perché è entrata a far parte della Juve, grazie alla trattativa che vede qui il compagno Douglas, e va bene così, quindi seguiremo anche quelle cose, magari metterò degli short per mostrarvi l'arrivo di Di Gregorio e di Alice Aleman al J Medical. Quindi questo è il programma matutino, però in serata ieri ci sono state sicuramente tantissime novità legate al mercato. Cioè quasi a reti unificate, tra i vari giornalisti, da Pedullà a Di Marzio, a Romano, eccetera. Tutti dicono una cosa. Che chiese ragazzi è arrivato al capolinea con la Juventus. Ora, che vi devo dire? C'è una questione in ballo che è il rinnovo. C'è un'altra questione in ballo, mica da ridere, tecnicamente Tiago Motta non vede chiesa, perché non gli sa fare certe cose che lui pretende dagli esterni. Cioè l'esterno che ha in mente Motta ha delle qualità differenti rispetto a quelle che in questo momento ha chiesa. In ballo c'è oltretutto questa questione del contratto, non si trova una quadra, eccetera. Allora la Juventus dovrà cercare di monetizzare la cessione. Punto. Quindi siamo arrivati, secondo me, al capolinea di Federico Chiesa alla Juventus. Che vi devo dire io ragazzi? A me Chiesa piaceva per quella sua ferocia, per quel mettere la gamba, per fare quel qualcosa in più. Tatticamente aveva dei limiti, sicuramente. È un giocatore da testa bassa, è un giocatore che ti fa la differenza da quel punto di vista. È un giocatore anche che nel suo essere individualista, nelle partite complicate, spesso sblocca e trascina. Dopo l'infortunio però ragazzi possiamo dire che un altro giocatore, che quel tipo di forza e tenacia, un po' si assopita, che è un po' calata, sì, non ci sputo sopra Chiesa. Sono dell'idea che questa Juve, dove lui ha giocato in posto di infortuni, abbia avuto tantissimi problemi e lui sicuramente da quei problemi non ne ha giovato e non è riuscito a fare quel trascinator che ci aspettavamo. E questo dispiace. Però ragazzi mi metto anche la lima in pace. È una cessione che io, umanamente, mi dispiace, ma comprendo. Nell'arco di una costruzione di una squadra che deve fare incassi, che deve cercare di tutelare i propri asset, quindi evitare di perderli a zero. Sto ricostruendo una squadra, la cessione di Chiesa tutto sommato ci può stare. A che cifre? Beh, sicuramente quell'anno e basta, che fa arrivare alla scadenza, porterà la Juve a sedersi in delle trattative col coltello puntato e non dalla parte del manico. È chiaro. Per cui mi aspetto che 25-30 milioni questa trattativa qua si possa chiudere. Con chi? Con chiunque. Perché la Juventus, secondo me, è apertissima a qualsiasi tipo di situazione. C'è da dire che anche lo United aveva mostrato un po' di interesse, ma le squadre che in questo momento sono più forti sono Roma e Napoli. Roma in primis, Napoli poi. Posso dire una cosa? Se Chiesa va alla Roma, per me è un downgrade di carriera. Fate quel che vi pare. Ma, a mio parere, dite quello che volete. Cioè, ci sta. Ci sta tutto. Alla fine sono considerazioni personali. Io ho l'impressione che quello sia un downgrade, ok? E che la Juventus dovesse prendere Sancho come caratteristiche farebbe, secondo me, un upgrade un pochettino interessante. Poi voi mi direte, eh, ma lo United ci può andare. Oggi anche Mbappé sono sicuro che fra due anni inizia a performare molto sotto quelle che sono le aspettative di tutti quanti noi. Perché lo United in questo momento è una sorta di camera avvelenata dove chiunque entra, veramente, rimane stordito e non si riprende più. In questo momento è una situazione simile. Per cui Sancho, tolto da là, fatto un po' respirare, come è stato fatto, per esempio, in questi ultimi sei mesi di stagione al Dortmund, è un giocatore che ha una certa resa, che ha certe caratteristiche ideali per performare. Ha delle caratteristiche individuali clamorose, per renderlo a un giusto prezzo potrebbe essere una buona soluzione. Lui prende circa 10 milioni di netti l'anno, è là che bisogna sicuramente smussare certi dettagli. Ma dal momento in cui lui apre a questa eventuale cessione e a un'eventuale offerta un po' a ribasso rispetto a quello che è lo stipendio attuale, secondo me Sancho potrebbe essere il sostituto di Federico Chiesa alla Juventus. Ovviamente i soldi di Chiesa che cosa porteranno alla Juventus? Beh, fiatto e rispiro per fare un affondo per Coop Mainers. La Juventus secondo me tenterà l'affondo già la prossima settimana, sta preparando un'offerta anche secondo i vari esperti da 50-55 milioni di euro. Anche qua vedo gente che storce un po' il naso. Eh ma Coop Mainers, eh ragazzi, Coop Mainers incide. Incide. Nell'economia di una squadra incide perché i numeri che ha sono numeri importanti, non sono numeri da fessi ragazzi. Poi spetterà sicuramente a Tiago Motta farlo rendere al meglio delle proprie possibilità e metterlo all'interno di un'organizzazione che vada a coinvolgerlo tanto in zona gol negli ultimi 30 metri. Ma sono sicuro che se Tiago Motta fa quella richiesta espressa al signor Giuntoli e gli dice io voglio Coop Mainers perché è centrale in quel che voglio fare, lo vede centrale in quel che vuol fare. Punto. E sicuramente andrà a valorizzarlo. Non è quel colpo che viene fatto dalla società e che rimane superfluo rispetto a quella che è l'ossatura della squadra o l'organizzazione della squadra. È un colpo centrale dell'organizzazione e credo che ne farà buon uso. Passatemi il termine. È come se fosse un oggetto. Non è un oggetto ma Motta saprà valorizzarlo a mio parere. E quindi ragazzi che vi devo dire? Va via chiesa. La Juve ci proverà su Sancio ma farà una trattativa con prestito e diritto barra obbligo di riscatto fissato all'anno prossimo e quindi rimanda il problema dell'eventuale acquisto a titolo definitivo. la Juventus punterà quindi a spendere quel che deve spendere poi su Coppemainers che attenzione è assolutamente finanziabile anche da una cessione di De Anhausen che pare sempre più lontano e non per volontà della Juve qua ma per volontà sua. Vuole andare da altre squadre che pensa di valorizzarsi un po' di più e abbiamo visto che alla Roma ha giochicchiato un po' con Mourinho e poi con De Rossi ha smesso di giocare. Per cui credo che spesso le ambizioni dell'entourage del ragazzo siano un po' più elevate rispetto a quella che è la realtà di fatti oggettiva nelle varie società. In questo momento parte sotto nella Gerarachia rispetto a tanti giocatori che sia il Paris sia la Juventus ha in questo momento. Può crescere può diventare un fenomeno, siamo d'accordo tutti ma se ha l'impazienza di voler dimostrare oggi di poter essere titolare in una squadra che punta a vincere e a convincere sia in Italia che in Europa, parlo del Paris e parlo della Juve che si riaffaccia ovviamente alla competizione europea io vi dico che è giusto lasciarla andare e accontentarlo. Punto. Senza star lì a piagnere, a piagnucolare è una sua scelta lecita la Juve ci monetizza e prende i giocatori più funzionali. La Juve rinuncerà sicuramente a Calafiori abbiamo visto che ha quelle cifre mai nella vita e lo vediamo sempre più lontano verso l'Arsenal. Comunque ragazzi c'è fiducia per Copmeiners quindi a breve ci saranno i colloqui con l'Atalanta quindi dobbiamo aspettarci un po' di novità importanti ecco in queste settimane se pensavamo che Turam avesse chiuso il cerchio del centrocampo ecco ci siamo sbagliati io pensavo che la Juventus volesse quei tre ad ogni costo punto poi i Calafiori sarebbe stato il colpo in più infatti quando mi chiedevate in passato ma Calafiori? Calafiori secondo me sarà eventualmente l'ultimo l'ultimo da prendere e potrebbe esserci una trattativa stile Locatelli col Sassuolo effettivamente a livello di storytelling è un po' stata così ce l'hanno descritta un po' così poi però la differenza tra Locatelli e Calafiori è che Calafiori ha accettato l'Arsenal Locatelli voleva solamente la Juventus ad ogni costo ora voi mi direte e porca miseria potevo andare all'Arsenal ci può stare tutto però vi dico Calafiori ha scelto l'Arsenal quindi ciao grazie arrivederci e va bene così l'importante ragazzi è chiudere per te un Cup Miners a qualsiasi cifra di quelle che stanno dicendo ovviamente 40, 45, 50 che lo chiudano lo portiamo a casa perché se quello che vuole Tiago Motta è lui che vede il centrocampo così ha lei dei chiani in testa almeno sul cuore pulsante della squadra diamogli retta accontentiamolo secondo me riuscirà a valorizzarlo al meglio e potrà incrementare anche quel numero importante già di golle assist che fa la Juventus ragazzi ha bisogno di golle assist quando sento profili minori come Samar, Zic eccetera sono più scommesse quelle a 20 milioni che non a 50 milioni una certezza perché vi dico questo? perché la Juventus come il Bologna l'anno scorso ha da incrementare il tasso di conversion rate ti importa deve concretizzare maggiormente le azioni e ha bisogno di qualità Kupemainers è un giocatore di qualità è un giocatore che ci è mancato è il famoso giocatore che tra le linee fa la differenza è l'anello della catena tra centrocampo e attacco è un giocatore che sa segnare e che sa rifinire l'azione per cui siccome giocatori simili non ne abbiamo in rosa a parte Ildiz che deve ancora dimostrare Kupemainers ha già dimostrato e anche in ambito europeo badate bene che un ragazzo simile ci può solamente essere utile alla causa ci vediamo più tardi ragazzuoli iscrivetevi al canale vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve ciao belli